Dottor Flander, perché questa serata? Allora, questa serata è stata promossa da Musa e dal Museo e riguarda soprattutto una mia donazione di 14 maschere del genere Fliacico, un teatro che si faceva nella Magna Grecia nel IV secolo a.C. e un genere di spettacolo che è poco noto. E tra l'altro noi di questo teatro conosciamo pochissimi. Conosciamo soltanto le iconografie dai vasi, cioè oltretutto chi ha dimmiato i vasi erano grandissimi artisti, Asteos, Fiton e pittore di Amicos, insomma grandi ceramografi. Questi hanno lasciato delle immagini, delle rappresentazioni del teatro Fliacico come si svolgeva all'epoca. Questi non erano attori che recitavano nei teatri, recitavano nelle strade, cioè erano attori di strada, erano in poche parole i nostri antisegnali dei comici dell'arte. Questi praticamente mettevano del tavolato, una specie di palco improvvisato, con pochissimi elementi scenici e mettevano queste maschere enormi, grandissime, perché dovevano essere proporzionate al loro costume che era goffo e ridicolo, perché avevano grossi ventri, grossi sederoni, un fallo enorme appeso all'avancio. Per cui già il loro apparire in questo modo faceva ridere. Questi satireggiavano gli uomini della strada, i vizi, le virtù, e persino le divinità. In queste mie maschere lei vedrà Zeus, vedrà Hermes, Heracle, come troverà anche ad esempio Agiacio, Ilio, Ulisse, cioè gli eroi del mito, gli eroi classici che sono stati poi tanto descritti da Omero. Ecco, qual è la particolare di queste maschere? Sono tutte costruite in stoffa, secondo una tecnica che ho scoperto durante due seminari presso il Museo dell'Arte e della Tradizione di Omero. Quando ho costruito queste maschere hanno un enorme successo, sono stati esposti nei musei più importanti al mondo e c'è una letteratura enorme, hanno scritto fiori di scrittori e di storici dell'arte. E perché hanno una le avvoluzione di Omero? E questa è la domanda, perché hanno una? Perché intanto si è instaurato un rapporto bellissimo con il gruppo di musa, a iniziare dall'avvocato, Naffele Soprano, e poi dall'architetto Barbato, il maestro Vittorio Avella, e sia con il museo. Perché? Perché a seguito della presentazione del mio libro si era pensato di istituire qui, in questo museo, una sezione dedicata alla cartapesta nolana, con la mia collaborazione. con la collaborazione mia proprio fattiva, insomma, e duratura oltretutto. E questo progetto andrà avanti, senz'altro. Allora io ho pensato di regalare queste maschere, perché oltretutto uno dei principi che mi ha aspirato a donare è il fatto che probabilmente a Nola c'è stato un contatto diretto con le Atellane, che è un paese che sta qui vicino. Grazie.